Ricordamelo velocemente. Allora, a Dnipro in questo momento la situazione è piuttosto tranquilla. Ci sono stati dei bombardamenti nei giorni scorsi, ma diciamo poca roba rispetto a quello che abbiamo vissuto a Kharkiv, dove, lo ricordavate prima, i bombardamenti sono costanti. Prima i russi avevano, diciamo, le 5 del pomeriggio era l'orario in cui i russi si facevano sentire. A un certo punto, nelle ultime settimane... Qualunque ora era buona. Esatto, esatto. Non c'era orario, qualunque ora era buona. Gli obiettivi che colpiscono sono anche degli obiettivi civili. L'abbiamo detto tante volte, l'avete detto, l'avete ricordato anche voi tante volte. L'area stessa dell'istituto nucleare di cui vi volevo parlare, quella è un'area assolutamente civile. Tra l'altro a me colpiva molto... Cioè, l'area è civile e stiamo parlando di un istituto nucleare che tu sei andata a vedere. Quindi chiederei alla regia, intanto, se mandiamo le immagini, così Luciana ci racconta che cosa stiamo vedendo. Perché tu sei andata a vedere dopo che c'era stata l'esplosione, no? Sei andata a vedere i danni ma anche i rischi di quell'attacco. Ecco, stiamo vedendo le immagini, Luciana. Esatto, io ci sono andata proprio perché mi ha colpito il fatto che questa notizia, che a livello internazionale aveva avuto una eco incredibile, a Kharkiv non stava avendo, insomma, non spaventava e quindi mi sono chiesta come è possibile, c'è qualcosa che non va. Ho contattato dei tecnici, delle persone che lavorano non propriamente in quel centro ma insomma fanno quello di lavoro e con un dosimetro hanno effettivamente verificato che non c'è stato un aumento di radiazioni. Quindi a quel punto ho deciso di andare sul posto a vedere la situazione. In realtà l'istituto non è stato bombardato. Io le immagini che vi ho messo, che vi faccio vedere per farvi capire l'area, è un'area assolutamente martoriata dai bombardamenti, è un'area civile, è un'area che se fossimo a Roma sarebbe anagnina, quindi è diciamo molto periferica ma molto densa a livello residenziale proprio. Quindi è stata bombardata da giorni e uno dei razzi, in realtà non si capisce se quello era il target, cioè se l'istituto... Cioè se volevano colpire l'istituto oppure no, dici? Esatto, esatto, non si capisce, però nelle immagini che vi mando più avanti ci dovrebbe proprio essere il razzo che è arrivato sull'istituto, che non è un obiettivo strategico. Infatti poi per confermare questa cosa io poi ho intervistato un fisico che di base mi spiega proprio questo. Ecco, tra poco si dovrebbe vedere il razzo che è arrivato su questo istituto. Non ci sono danni visibili all'istituto e questo fisico appunto mi spiega che, attenzione, non è un reattore nucleare, non c'è pericolo, al momento la situazione è sotto controllo, non ci sono radiazioni. Chiaro è però che se i russi dovessero bombardare, cioè se ci dovesse essere un bombardamento aereo direttamente sull'istituto, ovviamente le cose cambiano, perché diventa decisamente più pericoloso per una questione di radiazione, immagino, almeno. Esatto, quello è il razzo, quello che state vedendo in questo momento è il razzo che è arrivato proprio nell'area in cui si trova l'istituto. Lo vedete, in questo momento è semideserto, si trova in un bosco praticamente, però sì, se arrivasse una bomba direttamente sarebbe un problema. Fermate solo un attimo, Luciana, che voglio sentire Greco. Allora, giustamente, dice Luciana, noi non lo sappiamo se quello era un target, cioè se l'obiettivo era veramente quel luogo, oppure se, siccome stanno sparando dappertutto e stanno colpendo anche i centri abitati, anche le zone dove vivono i civili, semplicemente tra i vari attacchi c'è finito in mezzo anche quel luogo. Perché dovrebbero prendere di mira una centrale di quel tipo? Allora, innanzitutto, ogni volta che si parla di nucleare, giustamente nasce un forte allarme, quindi certe notizie magari possono essere amplificate. Secondo, se si tratta di un centro nucleare, può darsi che ci sia materiale radattivo, quindi è probabile che questa preoccupazione non sia del tutto affondata. Però, anche oggi, sono nate degli allarmi molto più preoccupanti che riguardano, per esempio, Cernobbio. Sappiamo che ci sono stati degli ulteriori incendi e, naturalmente, gli ucraini hanno detto che lì il rischio così si accresce. Quindi, ovviamente, il rischio nucleare è ancora attorno alle centrali, anche a quella spenta di Cernobbio. Zaporiggio, Cernobbio. E anche perché la situazione del personale non è sotto controllo. Però, secondo lei, in questo caso specifico, questo istituto di ricerca potrebbe essere semplicemente che hanno attaccato questa zona e non era l'obiettivo dell'istituto? È difficile, è difficile sapere. Non lo vedo come un obiettivo strategico particolare, però può darsi che da lì, invece, si controllino le attività nucleari. O che comunque l'idea di mettere paura alla popolazione sia sempre, in qualche modo, una modalità. Perché poi il problema è che, diciamo, gli agenzie di controllo ucraini hanno perso un po' il controllo delle centrali. hanno denunciato che stavano perdendo questo controllo. E quindi adesso non è chiarissimo se tutto è sotto controllo. Luciana, torno da te. Eccomi. Sì, eccomi. Sì, volevo soltanto aggiungere appunto che il fisico ci aveva detto una cosa importante. Da tempo si parla del fatto che i russi pensano che in qualche modo stiamo costruendo armi nucleari. Cosa che lui ha assolutamente... Esatto, il problema di base è quello. Quindi potrebbe essere un target per quel motivo. Giustamente. Il fisico in questo momento diceva che non c'è assolutamente questo pericolo. Prima di tutto per un motivo banale. Perché l'Ucraina in questo momento non avrebbe tutti questi soldi. E secondo perché una curiosità che riguarda quel centro, che in realtà è un centro di ricerca storico, perché ha quasi 100 anni, è stato costruito nel 1928, è stato molto importante durante il periodo sovietico in tutto il mondo. Però una nota importante è che gli impianti nucleari di quel centro sono recenti, sono di 10 anni fa e sono stati costruiti dagli Stati Uniti, cioè finanziati, scusate, dagli Stati Uniti. E gli Stati Uniti, faceva notare questo fisico, non avrebbero nessun interesse in questo momento e ci sanzionerebbero immediatamente se noi dovessimo costruire armi nucleari. E l'altra cosa importante... Vabbè, come puoi immaginare, Luciana, poi come sempre le notizie, le contronotizie sono dietro l'angolo. Certo. Però certo, tu ci dici quello che ti è stato detto lì. Scusami, Luciana, ma adesso devo salutarti perché sono fuori tempo massimo, sono già ampiamente fuori tempo massimo. Ti ringrazio per il momento. Poi se lo ritieni ci chiedi la linea nuovamente, nuovamente, volentieri ti riapro. Intanto saluto Claudio Brachino, saluto Ettore Greco, grazie per essere stati con noi, andiamo in pubblicità. Dovrebbe già essere arrivata la nostra ospite. Dopo la pubblicità troverete qui con noi la senatrice Roberta Pinotti. Andiamo in pubblicità e rientriamo. Grazie a tutti.